Hyundai si muove in questa direzione anticipando anche con grandi investimenti e oggi siamo pronti con un range di vetture di motorizzazioni elettrificate che sono uniche sul mercato partendo dal mild hybrid passando dal full hybrid al plug in hybrid al full elettrica arrivare fino alle vetture a idrogeno quindi abbiamo sicuramente un'offerta unica adattabile a qualsiasi esigenza del cliente con un range di vetture che vanno dal segmento A al segmento D quindi sicuramente un'offerta completa per i nostri clienti che stanno apprezzando sempre di più soprattutto le nostre vetture elettriche con una grande autonomia. Oggi al Company Car Drive siamo veramente felici di poter presentare Ioniq 5, una vettura full electric con due pacchi batteria uno da 55 kW e uno da 70 kW che può raggiungere un'autonomia di 480 km con la possibilità di assimilare energia fino a 200 kW quindi con un tempo di ricarica dal 10% all'80% di 15 minuti. Tra l'altro si potrà avere la vettura sia con trazione posteriore che trazione integrale. Rappresenta la prima di queste serie di vetture marchiate Ioniq e questo nome e questo brand sarà abbinato proprio solo ed esclusivamente alle nostre vetture elettriche del futuro. La innovazione anche all'interno con un head up display di 40 pollici in realtà aumentata che permette di verificare e di avere tutte le informazioni sul parabrezza della vettura e uno spazio e un'abitabilità interna veramente fuori dal comune. Quindi invito i nostri clienti a provarla.